E ragazzi, come va? Io sono FieriNiki E io sono Stef, e qui si giochiamo a Roblox E oggi giocheremo a Lambert Kune 2 Ovvero la mappa più giocata in assoluto di sempre su Roblox È incredibile che non l'abbiamo mai fatta, assurdo! Ce la siamo ottenuti per l'inizio del 2017 Dici, dici che era tutto programmato? E beh, cioè, devi iniziare il 2017 con delle belle mappe Quindi questa qua è perfetta, ci vogliamo fare una miniserie Anche perché in questo momento ci sono poche mappe di Roblox da giocare Esatto Quindi abbiamo bisogno di almeno una miniserie su Roblox Lasciate tanti likes se vi piace così capiamo appunto se farla E direi di iniziare Spieghiamo brevemente la mappa Siamo dei falegname Oh che bello Avremo il nostro Techune, quindi la nostra zona dove lavorare Dovremo tagliare la legna e vendere questa legna Con i soldi che facciamo compriamo degli utensili migliori Dei veicoli per trasportare più legna Dei macchinari migliori Dei macchinari E si arriverà a fare un sacco di roba Credo addirittura una casa che potremo arredare Oltre al fatto che c'è addirittura una zona per VIP Dove trovi legna migliore Dove devi pagare l'accesso per andarci Quindi è pieno di cose da fare Iniziamo Si inizia ovviamente andando nel negozio A spendere i nostri pochi risparmi Per comprare un'ascia Ok compriamoci l'ascia Credo che questa qui gialla sia quella che costa meno Me ne acchiappo una E vado da che ho messo Allora una alla volta perché se no facciamo un di l'altra Allora la faccio prima io Buongiorno si chiama Tom Questo qua Sì 12 Ricordavo bene Ok grazie Comprata Perfetto vai Tocca a te Ehi Ehi Dammi l'ascia Vieni ce ne sono due vicini Una a fianco all'altro Sì sì andiamo a fare i primi alberi I primi alberi Ok questi qua Allora io faccio questo a fianco Dai facciamoci un sacco di legna Che figata Opla Che fatica Che fatica Praticamente Non l'abbiamo spiegato Dobbiamo tagliare la legna dagli alberi Portarla dietro al negozio dove abbiamo comprato l'ascia Per venderla Per venderla L'albero così non ci entra perché è troppo grande Quindi dobbiamo tagliare anche i singoli rami Quando arriviamo lì Vabbè ma taglialo lì davanti Certo Perché non ci conviene fare avanti e indietro Assolutamente Forza signorina Ho in questo momento otto di soldi Mettiamo i primi pezzi Siamo proprio poverissimi Vediamo se riesco a farlo entrare così Anche se non è tagliato benissimo Sì ce l'ho fatta Ti dico a quanto arrivo 19 Ok Non male Non male È un inizio È un inizio Sì 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 Il primo veicolo costa 400 Ma prima del veicolo ci dobbiamo comprare il terreno Che se ricordo bene dovrebbe costare 100 Il terreno piccolo 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 Il terreno è 100 sì Il primo terreno proprio quello super basilare è 100 Ok Allora primo obiettivo arrivare a 100 dollari Per comprarci il nostro terreno piccolo piccolo Per iniziare la nostra economia da Falegnami Abbiamo per comprarci il nostro primo terreno La cosa bella è che quando compriamo il terreno c'è un cartello che possiamo vendere per 400 E 400 è il costo del primo veicolo Esatto quindi diciamo che te lo danno gratis Mettiamola così Più o meno più o meno è un regalino iniziale della mappa Sappiamo giusto le cose iniziali Non sappiamo poi come si va avanti Ci siamo informati sull'inizio per fare una buona partenza Poi dopodiché non sappiamo cosa ci aspetta Sì ripeto perché è un po' complicato Allora tu entri Non è che hai delle istruzioni o qualcosa che ti spiega Devi capire tutto da solo Devi capire tutto da solo Quindi anche noi all'inizio ci siamo ritrovati giustamente un po' confusi Abbiamo visto le prime cose Esatto Allora Continuo a vendere tutta questa cosa mentre tu tagli quella Sei la mia assistente falegname Sì mi piace Quindi ti chiamerò affalegname Ma non fa ridere cioè è terribile Oggi non ce la fai con le battute Hai un nome migliore? Sei proprio scarso Ma tu sei scarsa prima di tutto Allora sono Ferinichi Ahà L'affalegname migliore sulla terra Ma non è neanche un soprannome questo È un titolo infatti I titoli sono più importanti dei soprannomi scusami Sì ma Io voglio un titolo non un titolo Finito zitto Sciarpina brutta Allora tu sei brutto vestito così ok Sono bellissimo Un pirata vestito così non si può vedere Oltretutto i tuoi pantaloni sono da donna Non è vero Proprio ti insulto alla grande Non hai le prove Questo è proprio sta per iniziare una battaglia rap di insulti Quindi smettila Sai che c'è una mappa di battaglia rap? Ma davvero? Su Roblox Sì l'ho vista ancora non ho avuto coraggio di provarla Perché secondo me sarà terribile Ma che secondo me sarà terribile Però dobbiamo controllarla Perché se è bella Oh sarebbe bellissimo fare battaglia rap Parte una battaglia rap tra me e te Puoi vedere il nostro bellissimo alberello lì dietro? No No? Non lo vuoi rendere protagonista? È un bonsai poi non è un alberello L'avevo fatto vedere nel mio profilo Ok ok Guardate il profilo di Facebook Ma è su Instagram o nel tuo profilo? No di Facebook Allora dobbiamo metterla anche su Instagram Poi lo metteremo Ok Però è il protagonista di questa serie No abbiamo rischiato di farlo quasi morire Lo voglio dire No non dirlo No perché il negoziante Adesso diamo le colpe giuste Facciamo le cose per bene Ma sai aspetta Ci ha dato consigli sbagliati Noi stiamo giocando a un gioco E si stava seccando Quindi ieri ci abbiamo dovuto passare una cosa come 4-5 ore E ieri era capodanno Esatto Era la giornata di capodanno Per cercare di annaffiarlo nel modo corretto Abbiamo proprio seguito un sacco di video su YouTube Davvero tantissimi Però oggi si è ripresa Oggi si è ripresa sta già 3.000 volte meglio Quindi le 4 ore Hashtag resisti bonsai Hashtag amore per il bonsai Datteli la forza Di continuare a vivere Datteli tanto amore Perché davvero No però adesso comunque abbiamo capito come si fa Ed è bellissimo Sì ormai siamo degli esperti coltivatori di bonsai No è difficilissimo coltivare i bonsai Aggiungo questo è difficilissimo Questo è il terreno perfetto Lo stai già comprando? Sì certo Oh bello Siamo arrivati a 138 Mentre tu parlavi dei bonsai E volevo raccontare la mia esperienza Qua stiamo facendo i falegnami Quindi almeno raccontiamo le nostre esperienze Con le piante e gli alberi Io volevo soltanto dire Che ci piacciono gli alberelli E quindi ne abbiamo uno Non ce l'ha bisogno di raccontare tutta la storia No allora io ho sofferto molto Quando lo stavo vedendo seccarsi Quindi voglio dare le giuste colpe Per far capire che non è stata colpa nostra Ma del negoziante Ai consolini interesserà sicuramente molto Sì No sono molto arrabbiata Comunque questo è il nostro terreno Lo so è gigantesco Ci si può costruire Wow Mi sto perdendo Non so più dove devo andare Aspetta non vedo la fine Allora Se vai a sinistra Vedrai la fine a sinistra Se vai dritta La fine dritta Sempre la mappa di raft Che non vedi mai la fine Vero C'è scherzo È troppo grande Comunque su raft Voglio dirlo al volo Oggi parliamo di un sacco di cose Che non c'entrano nulla Con il video che stiamo facendo Siamo insopportabili Eh lo so Volevo dire che su raft Abbiamo scoperto Che davvero si può finire Il mondo Quindi blimatelo Quindi La colpa Ci siamo resi troppo presto In realtà c'era il modo di farcela Allora Non si trova la terraferma Ma si trova la fine della mappa E lo faremo Assolutamente lo faremo E io ci tengo a dire che Fuori dalla registrazione Gli dicevo Dai continua Continua No non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Tanto E invece avevo ragione Tanto ero io che tagliavo legna Fogliame Tutto quello che c'era da tagliare Perché non sembravo Facile è parlare da fuori Guarda io come la taglio bene qua Hai visto? Eh sì Comunque Macchina È arrivato il momento della macchina Andiamo a comprarla È un furgone Non è proprio una macchina Vabbè giustamente un furgone Ho buttato giù tutto Scusi Sto distraendo Tom Così non lo vedi Tom Non ce la faccia pagare Più del previsto Tom ti piace la mia sciarpa Detto che gli piace Che ne vorrebbe una anche lui Gli la regalo Così chiude un occhio Sul Capito Sul disastro che abbiamo Ma no ma dai Ma la tua sciarpina Non la puoi regalare Regalo un'altra Gliela faccio con le foglie C'è un problema Così lui neanche se ne accorge Hai sbagliato Ho flippato tutto E non me la fa più vendere Allora devi aspettare Che scompagli e riprenda Ok Così Mi levo Sì Ehm Opla Sì così così Vedi perché tu puoi raccogliere la legna Da qui e la metti qua Invece la macchina la voglio Verso la strada La mettiamo Ok Ok Quindi Magari facciamo da questa parte Ma girata? Eh Sì Così Sì verso la strada Spostati Dove sono io? Guarda così Sì 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 Opla E vedi da lì prendi la legna E qui sei già pronto Per andare verso la strada Se vi chiedete perché si piazza È proprio perché È il parcheggio Non è solo il nostro furgoncino Ma è proprio anche il parcheggio Dove appunto tenerla Ehm No No andiamo No Facciamo vedere come funziona Abbiamo un alberello qua Lo tagliamo Lo mettiamo nella raffineria Poi mettiamo tutto nel furgoncino E andiamo Ok Allora facciamo che ne tagli anche un altro Così facciamo Ok Tiriamo un sacco di legna oggi Big money Big money con gli alberi Big money for us Guarda come sembravo a far entrare i pezzi Hai visto? Un tagletto in alto Stavo guardando Stavo ancora pensando alle caramelle Guarda Pensa a fare bene il tuo lavoro Per favore Sì lo sto facendo benissimo Ok Io ho quasi finito Ah volevo far vedere come diventa la legna raffinata Come vedete Ha un colore totalmente diverso È proprio Sembra proprio un tronco Come quelli che usano Capito Per lavorare il legno Sì Vedi che è molto più compatto È molto diverso Sembra così il parche Che si mette Capito? Nelle case Sembra proprio Capito Sai quando fai i mobili che il legno è totalmente lavorato Quello sembra Sì è vero Possiamo costruire un mobile Va bene Ecco da voi Un armadio Sì Va bene Per metterci la legna Un armadio di legna Un armadio di legna Mi piace È molto carino Dobbiamo caricare tutta la legna nel furgone Forza dammi una mano Aspetta che devo raffinare l'ultimo Calma Ok Vabbè Io inizio a caricare tutto Che bellini questi piccoli piccoli Sì questi li sta tagliando piccolini È un lavoro davvero pesante comunque Prima devi buttare giù un albero a colpi di ascia Poi lo devi sistemare tagliuzzando i singoli pezzi Poi lo devi mettere nella raffineria Poi lo devi trasportare nel furgone E poi lo devi pure vendere E te lo fanno sudare Lavoro da falegnale Non è lavoro semplice Nooo Si è mosso tutto Dobbiamo sistemarlo un po' meglio Ciao Ok Olè Piano piano Pia ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ok Perfetto E l'ho fatta cadere alla fine Allora Siamo a 66 Questo singolo tronco Mi ha mandato A 141 Ciao Incredibile Incredibile quanto vale raffinata Quindi È importantissimo avere tutti i materiali Per tutti i tipi di legna Anche perché penso Che le legna è più rara Perché sì ci sono Diversi tipi di alberi Non li possiamo fare ovviamente Con la raffineria base Quindi abbiamo bisogno Di migliorare la raffineria Eh assolutamente sì Di comprarne di nuove Assolutamente sì Ok Ok Allora Siamo partiti da 66 Vediamo esattamente A quanti soldi arriviamo Così ci facciamo un'idea Di quanto riusciamo A guadagnare 664 Da 66 che eravamo Quindi guadagniamo 600 Ogni due alberi raffinati Ok Eh mica male Vediamo un pochettino Allora Vediamo cosa tutto c'è Scusami Esatto Non abbiamo frugato bene Secondo me Guardami Seguimi Sì ti seguo Questi pezzi Ok Cosa servono Tu li metti al posto del conveglier normale Per mettere più facilmente i tronchi Nella raffineria Dici Secondo me sì Eh ma conviene potenziare quelli più forti Manca la lampada Sì la lampadina grazie Fondamentale Perché c'è buio Così te la metti lì Invece vedi anche No hai ragione Hai ragione Così lavoriamo meglio Anche con le notte Allora Tom dai Ci compriamo anche questo Oggi hai fatto un sacco di guadagni Tom Devi essere felice Ci devi ringraziare Tom Uno sconto del 10% È tirchio No Ha detto che è tirchio Ok va bene Stiamo facendo un lavoro di squadra incredibile Lei sta raffinando i pezzi Che abbiamo tagliato Che difficilissimo E io sto cercando di caricarli nel furgone Comunque non so se riuscite a vederli Ma sono di un colore diverso E beh immaginavo Sì perché anche già la legna base è di colore diverso Quindi ha senso Sono più bianchi Sono molto 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 belli E secondo me varranno tantissimo E lo spero perché è davvero complicato Perché da tagliare sono tosti E sono anche lunghi Quindi secondo me avranno un gran bel valore Inizia a portare tutti questi Che il furgone è già pieno Tanto non ci starebbe tutto Quindi vai vai Esatto esatto Facciamo più viaggi questa volta Tune mentre continua a tagliare e a raffinare Sì 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 E io vado 80 Pensavo qualcosina in più Sinceramente per quanto sono grandi Più o meno vale quanto l'altro Eh sì E poi per quanto è lento da tagliare È difficile da mettere nella raffineria base Non ne vale la pena Capito? Non ne vale la pena Ultimo carico Guarda come ho giocato un po' meglio Basta sono proprio stanca Basta Ho giocato un po' meglio a Tetris Stiamo a oreo Ero qui a tagliare legna Non ne posso più È un lavoro faticoso Poi vabbè è il primo giorno di lavoro Quindi sinceramente Non ci dobbiamo neanche stancare troppo No dai Almeno iniziamo a vedere un po' come funziona Poi cercheremo di migliorare la base Cosa è essenziale Perché è davvero scomodo Sì Quella mini raffineria che abbiamo No sì fa impazzire Ci vuole proprio qualcosa di molto Fa impazzire proprio Più larga Capito? Per mettere tronchi più grossi Ah Prova a tagliarlo di nuovo a metà un attimo Guarda Fa venire il nervo E dai c'è l'ultimo pezzo Ormai lo voglio Eh no certo Prova a metterne uno tu al volo Voglio vedere se dai soldi a me Perché così nel caso facciamo Eh facciami insieme vai Ero a 520 Sì Ok allora tu parla nell'altro Andiamo 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 Eh facciamo così Probabilmente se perché Perché li abbiamo raffinati nel tuo macchinario Quindi anche se lo fa un'altra persona Comunque i soldi te li prendi tu e bella Esatto Beh almeno lavoriamo in due così Eh no ma se poi ci pensi Metti adesso te ne vai nel macchinario di uno che ha tutta la casa completata Hai già finito il gioco capito? Esatto Invece non lo puoi fare Questo lo apprezzo Questo lo apprezzo perché almeno ti godi il gioco Beh sì se parti con 50.000 Eh no certo certo Allora vedo un pochettino quanto abbiamo guadagnato Aspetta che ho bloccato questo Proprio l'ultimo dovevi incastrare Fatto fatto Eh no ma mi tieni in giro Mi tieni in giro davvero Ferinichi versus stronco Ok Chi vincerà? Vado anch'io No Addio Non lo fare Addio Dove finiamo? Ah qua ok In un portale magico Molto 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 bello Sai quanto abbiamo fatto? Quanto? 1.000 Oh bene 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 dai Per la precisione 982 Abbiamo Abbiamo faticato parecchio Ma almeno ci siamo fatti un bel po' di soldi Un bel gruzzoletto C'è un putiferio Sì vabbè Abbiamo lasciato davvero un disastro incredibile Però Secondo me siamo andati bene Abbiamo già fatto le prime cose Abbiamo il primo veicolo La prima raffineria Abbiamo 1.000 da parte che non sono male Quindi prossimo episodio Vediamo un pochettino di migliorare la raffineria Perché magari diventa un po' più grande Ed è un po' più comoda Rimiglioreremo l'ascia Perché di fatto è lenta Per quel tipo di tronco Quindi bisogna già di nuovo migliorarla E poi vedremo un pochettino cosa fare Anche in base ai vostri commenti Perché magari ci saranno Delle cose che non sappiamo Che ci consigliate E quindi le possiamo fare E quindi le possiamo fare Fateci sapere quindi nei commenti Se volete questa miniserie Speriamo di sì E ci fermiamo così Spero che ci sia così Se ci lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao